Buongiorno a tutti, io sono Di Palma Vincenzo, sono dittorato, ho un barriere, un uomo e gentiluomo da 9 anni e come tutti mi aggiorno nel lavoro. Ho scelto di fare questo corso di Ayrta 2 con la Saint Martin perché non è il primo corso che faccio con loro quindi ho già una certa fiducia nei loro confronti, una certa serietà, professionalità, un certo modo di fare. I corsi della Saint Martin non è solo Ayrta 2, quindi imparare una tecnica di lavoro che la puoi sfruttare in tanti altri lavori e anche marketing, è completo, è tutto, abbraccia tutto. Poi sono persone molto umili e questo è tanto per me perché rispecchio quello che sono io, la mia semplicità in un certo senso. Grazie a loro io voglio cambiare, voglio cambiare il mio modo di essere, quindi questa è una mia aspettativa. cambiare il mio modo di essere per aprirmi di più a un nuovo mondo, a un nuovo modo di lavorare che non è più quello del passaparola ma è quello dei social, è quello di Facebook e andare oltre. Quindi non sono più il ragazzino di una volta, mi devo adeguare a quello che vedo oggi.